ben ritrovati a tutti i miei cittadini spettatori e benvenuti a questo nuovo collegamento a tenerci in compagnia l'assessore del comune di castellabate alla pubblica istruzione politiche sociali e pari opportunità isabetta martiuscelli ma vogliamo tracciare subito un risoconto generale dell'attività del suo mandato da assessore del comune di castellabate la mia esperienza diciamo che la mia prima esperienza ecco si accinge a diciamo avvolgere al termine il primo mandato elettorale quindi la prima esperienza politica e quindi ha avuto anche la è stata una fortuna quella di poter avere la possibilità di coprire immediatamente il ruolo di assessore è stata un'esperienza un vero e proprio viaggio di emozioni ecco ho avuto la fortuna di conoscere tante persone di confrontarmi con una realtà del comune che molto spesso era a me sconosciuta quindi magari incontrare le difficoltà di alcune famiglie e purtroppo insomma ci si scontra con tante realtà e molto spesso proprio le politiche sociali sono state quelle che mi hanno messo più a contatto con le varie fasce della della popolazione le politiche e invece delle politiche quelle poi legate alla scuola quindi alla pubblica istruzione mi hanno dato la possibilità di lavorare insomma con contatto diretto con con insegnanti con la dirigente e con gli alunni creando tantissimi eventi manifestazioni storico culturale insomma in memoria di giornate importanti quindi ricorrenze e ho trovato di fronte a me sempre ragazzi propensi a partecipare a qualsiasi tipo di attività sicuramente tra quelle che mi stanno più a cuore è stata l'istituzione della della mensa a chilometro zero per diciamo per il comune di castellabate e il castellabate film festival quindi un evento dedicato ai giovani ai alunni del dell'istituto comprensivo che quest'anno insomma è andato purtroppo via web per ovvie ragioni però insomma il fine è stato raggiunto ugualmente e abbiamo creato appunto questo connubio eh trattando tematiche sociali attraverso eh le nuove metodologie attraverso le nuove tecnologie eh per quanto riguarda invece le politiche giovanili tra gli eventi più importanti c'è stato We Station Cilento quindi la possibilità di formare dei giovani attraverso dei corsi eh di giornalismo video giornalismo subacquea è stato eh in effetti eh un diciamo un bel riscontro ehm e quindi tanti giovani che hanno avuto l'opportunità i giovani che hanno avuto l'opportunità di partecipare a questa a questa manifestazione hanno comunque potuto migliorare il proprio bagaglio culturale eh e quindi trarre dei dei benefici da da questo percorso eh non ultimo eh proprio diciamo di recenti abbiamo partecipato a un altro progetto che si chiama Fermenti in Comune di Anci di Anci e speriamo insomma ci venga ci venga finanziato e quindi per dare la possibilità ad altri giovani di di partecipare e di formarsi eh sul territorio comunale. Ehm chiaramente le politiche sociali sono state quelle più delicate purtroppo il comune non eh diciamo i comuni in generale eh non hanno attività diretta in quanto ehm oggi le politiche sociali sono ehm sono insomma tutte incluse nell'ambito sociale di zona e mh quindi siamo trentasette comuni nell'ambito S8 e quindi insomma con non poche difficoltà soprattutto nell'ultimo anno stiamo abbiamo comunque cercato di andare incontro alle varie esigenze che si creavano eh giorno per giorno. Assessore in merito all'ordinanza del ventisette febbraio con ricorrenza dal primo al quattordici marzo del duemila e ventuno eh potrebbe potrebbe illustrarci da allo stato di me e a tutti quanti degli spettatori eh con maggiore chiarezza quali sono state le direttive le direttive adottate? Sì eh l'ordinanza regionale eh chiaramente ha comportato la sospensione dal dal primo marzo al quattordici marzo delle attività in presenza legate alla scuola di qualsiasi ordine e grado proprio per il quadro epidemiologico che si sta eh insomma eh delineando sul sul territorio e l'obiettivo principale ehm che si evince appunto da 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 questo da questa sospensione e da da questa ordinanza è quello di poter vaccinare insomma il prima possibile eh gli operatori della scuola e quindi tutte le figure che ruotano all'interno della scuola al fine di tutelare eh i ragazzi e eh quindi i più piccoli eh che in questo momento sono eh insomma coloro che eh paradossalmente sembrano quelli più colpiti soprattutto da queste varianti eh covid che stanno affliggendo in questo momento il nostro il nostro territorio ma tutto il mondo nel senso che siamo in piena pandemia quindi purtroppo ci troviamo alla terza ondata e quindi speriamo insomma di poter raggiungere quanto prima mh una vaccinazione eh di massa che porta finalmente a eh la normalizzazione di di tutto e soprattutto della scuola perché i bambini in questo momento sono quelli più colpiti oltre che eh insomma gli operatori economici che hanno subito gravissimi danni. Assessore eh per concludere eh mi vorrei ricollegare a una notizia davvero di pochissimi giorni fa quindi molto recente eh l'adozione del pro sto parlando del mi riferisco all'adozione del protocollo di intesa siglato con l'associazione Plastic Free Onlus eh su cosa verte ciò? Sì eh allora la con l'aggiunta comunale di Castellammate abbiamo siglato questo protocollo di intesa con l'associazione Plastic Free Onlus eh che è un'associazione che opera sul territorio nazionale e ehm riesce appunto a garantire e garantisce delle campagne di sensibilizzazione soprattutto legato alla dispersione nell'ambiente della plastica. Ehm chiaramente il comune di Castellabbate è stato sempre molto sensibile a queste tematiche eh non a caso possiamo eh insomma vantarci di tanti riconoscimenti legati all'ambiente eh bandiera blu e insomma le cinque vele di lega ambiente e quindi insomma siamo eh siamo molto orgogliosi pertanto eh la cosa che più ci eh diciamo ci ci rende ehm diciamo eh orgogliosi di partecipare a questo protocollo è quello di poter organizzare appunto insieme a questa associazione eh un'attività ehm di pulizia concordata con il comune di Castellabbate di pulizia appunto di determinate aree ehm che stanno a cuore appunto al al nostro territorio quindi saranno organizzati degli eventi eh grazie all'ausilio appunto di questa organizzazione. Allora assessore io la ringrazio la ringrazio davvero per la disponibilità grazie mille per il tempo per il tempo dedicato e la rimando ecco un prossimo un prossimo appuntamento grazie mille per la disponibilità grazie grazie a te Raffaele